Ciao a tutti amici di Popcorn, io sono Serena Maccialatte e come sempre vi porto una notizia super croccante. Si parla di Game of Thrones, più precisamente della settima stagione, che debutterà nell'estate 2017 e sarà composta da 7 episodi. Quanti 7? Gli Sher Hunters avevano già accennato al ritardo nella data di uscita della serie, che è sempre stata in primavera, ma questa volta sarà in estate. Questo per agevolare le riprese, infatti fino ad ora sono sempre cominciate a luglio, ma per questa nuova stagione, dato che l'inverno è arrivato, dovranno aspettare qualche mese per approfittare delle luci e del clima invernale. Inoltre sappiamo che le location saranno Islanda, Spagna e Irlanda del Nord. Come vi ho accennato la serie sarà composta da 7 episodi, questo ci suggerisce che l'ottava serie sarà composta invece da 6 episodi, dato che alla fine dello show ne mancano solo 13 in tutto. Per oggi è tutto, ma per rimanere sempre aggiornati su questa e tantissime altre serie tv, oltre che film, vi ricordo di visitare www.screenweek.it o di scaricare la nostra applicazione. Ciao! Ciao!